Bene, considerate che su YouTube ci sono circa 40.000 ore di video che vengono visitati ogni giorno. Cioè noi abbiamo 30.000 ore di video che vengono visitati ogni giorno da circa 60 milioni di persone. Voi pensate quanta mori di video produce YouTube. Io nel mio interesse e nel mio propagare idee proprio su YouTube, grazie alla rubrica che io stesso, Marco Montemagno, ho creato, ossia 4 chiacchiere con, ho contribuito a rendere YouTube un posto migliore, ad aumentare le persone che vedono i miei video qua. Ovviamente all'inizio è un po' così, un po' in difficoltà, poi però si cresce, si matura, si migliora, e YouTube può essere considerata come la piattaforma del futuro. Una piattaforma del futuro nuovo, di un futuro garantito. Poi quando farò altre interviste vedrete, vi accorgerete meglio del fatto che probabilmente, probabilmente migliorerà sempre di più. Ovviamente è un po' in difficoltà, perché ci saranno dei paletti, ci saranno delle difficoltà oggettive e non soggettive, ok? Quindi piano piano crescerà sempre di più questo social. Un social che è destinato al miglioramento, un miglioramento completo, totale, che arriverà in pochi giorni e in poco tempo, ok? Quindi questo è quello che vi posso garantire io, attraverso il mio canale, chiamato Marco Montemagno. E badate bene, ci sono video e video, video e video, però i miei video, anche grazie alla rubrica chiamata, intitolata, 4 chiacchiere con, è destinata ad aumentare il pubblico. Grazie a tutti e una buona giornata a voi dal vostro Marco Montemagno. Ecco, questa è stata, o meglio, l'imitazione che ho fatto. Spero che vi sia piaciuta, secondo me in parte l'ho presa, la sua cadenza un pochino, secondo me l'ho presa in parte. Iscrivetevi al canale, questo è un video di grande ammirazione nei confronti di questo straordinario personaggio di YouTube Italia e della TV. Ciao da Leandro, conoscitore italiano. Grazie a tutti.